Romina Power. Età, malattia e famiglia. Chi è Romina Power? Romina Power. Nome completo Romina Francesca Power. Nasce a Los Angeles il 2 ottobre del 1951. E, figlia degli attori cinematografici hollywoodiani Tyron Power, 1914-1958, e Linda Christian, 1923-2011. Il padre, che ama Roma, omaggia la città eterna chiamando la figlia Romina e da quel momento il nome si diffonde velocemente in tutta Italia. Ha due sorelle. Anna e Tarin. Rispettivamente scomparse nel 2011 e nel 2020. E un fratello di nome Tyron Power Jr., attore e cantante statunitense nato nel 1959. Tyron Power muore quando Romina ha 7 anni, e il trauma subito la porta a rimuovere qualsiasi ricordo fino a quell'età. Con i fratelli, la madre e il patrigno Edmund Pardom, si trasferisce in Italia prima di andare a Londra cresciuta dalla madre a metà degli anni Sessanta. Vive a pieno l'atmosfera di quegli anni facendo uso regolare. In quel periodo, di LSD. Un viaggio in India la porta a scoprire ed abbracciare in pieno la filosofia buddista che la aiuta molto quando scompare la madre nel 2011, dopo averla accudita per tre anni. Tra il 2008 e il 2020 vive prevalentemente negli Stati Uniti. Poi con il Covid si ritrova bloccata in Puglia. Si opera al ginocchio nel 2022. Carriera. A 9 anni Romina Power si trasferisce insieme alla madre in Italia. Già a 13 anni interpreta il primo ruolo come attrice nel film Menace all'italiana diretto da Franco Indovina. Comincia così la sua carriera. Con la recitazione. In questo periodo, dalla metà degli anni Sessanta fino alla metà degli anni Ottanta, compare in diverse pellicole. Inizia poi una carriera da cantante che l'allontana gradualmente dal mondo del cinema. Il primo disco è del 1966. Un 45 giri dal titolo Quando gli angeli cambiano le piume. Tre anni più tardi è concorrente del Festival Bar dove interpreta la canzone di Albano Acqua di Mare. Passa alla casa discografica Emi. Parlofon con la quale incide nel 1969 il primo album 12 canzoni e una poesia. L'anno seguente partecipa al Festival Bar con la canzone Armonia e concorre a un disco per l'estate 1970 riuscendo ad arrivare in finale. Partecipa ancora al programma due anni più tardi con nostalgia e vi fa ritorno nuovamente nel 1974. Anche stavolta arrivando in finale. Nello stesso anno pubblica il secondo album Ascolta. Ti racconto di un amore. Che per lo stile inaspettato non ottiene grande successo. Fa ritorno anche al Festival di Sanremo con il brano Non Due. Dopo aver sposato il cantante Albano i due partecipano insieme all'Eurovision Contest dell'AIA nel 1976 classificandosi al sesto posto. Albano e Romina partecipano nuovamente nel 1984 a Göteborg con la canzone Magic. O Magic? Arrivando stavolta al settimo posto. Conquistano anche un secondo posto a Sanremo nel 1982 e si aggiudicano finalmente la vittoria nel 1984 con Cisarà. Quando la coppia si separa anche nella vita privata. Romina Power comincia gradatamente ad allontanarsi dalla scena musicale. Tuttavia, tra il 1998 e il 2000 conduce con Fabrizio Frizzi il varietà di Rai 1 per tutta la vita. E due anni più tardi è al fianco di Mara Venier nella conduzione di un ponte fra le stelle la Befana dei bambini vittime della guerra e del terrorismo. Nel 2007 ha una piccola parte nel film presentato fuori concorso a Kang Go Go Tales. Nel 2012 vince la seconda edizione di Chuck. Si canta, con la canzone Acqua di Mare e lo stesso album pubblica l'album da lontano. I pezzi del disco risalgono al 1998-1999 e non è stato previso alcun lancio per il lavoro né in Europa né negli USA. Dopo 16 anni dall'ultima esperienza artistica insieme, Albano e Romina tornano a cantare sullo stesso palco a Mosca nel 2013. Il successo è tale che si organizza il Tour Albano e Romina Power Reunion Tour 2014. Sempre insieme ad Albano si esibisce a Sanremo l'anno seguente con i brani Cara Terra Mia, Felicità e Ci Sarà. Nel 2020 Romina Power è ancora con Albano sul palco dell'Ariston. Entrambi in qualità di ospiti. In questa occasione presentano il singolo Raccogli l'attimo. Vita privata. A 16 anni Romina Power si fidanza con Stash Klosowski, figlio del pittore Baltus, poi nel 1967 sul set del musicarello Nel Sole conosce Albano e si innamora di lui. Nel 1970 i due convolano a nozze e dopo quattro mesi nasce la loro primogenita Ilenia. Tre anni dopo arriva Iaris. Christelle viene alla luce nel 1983 e infine Romina Junior. Nel 1987. La notte di Capodanno tra il 1993 e il 1994 Ilenia scompare in circostanze ancora avvolte nel mistero a New Orleans. Il corpo non viene mai ritrovato e la vicenda distrugge le vite di Romina e Albano che si separano nel 1999. Soltanto nel 2012 i due ufficializzano definitivamente il divorzio. La malattia. Romina Power in questo periodo sta avendo problemi di salute. Attraverso i social la Power si è scusata con i fan annunciando l'annullamento di alcuni suoi impegni di lavoro. La cantante ha confessato di non riuscire a camminare e ha dichiarato di avere dei non meglio precisati problemi di deambulazione.